andrea voleva venire vai vicino a naida dai un colpo a naida che voleva salutarla è ciecata a 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